ciao e ben ritrovati di nuovo sul mio canale oggi una richiesta dall'amico ezio un brano del grande renato zero madame suonato dal grande lele melotti ok prima di tutto vediamo il groove base che comunque durante il brano presenta alcune variazioni solo nell'introduzione abbiamo di tre misure tre variazioni appunto di questo groove groove che vede il charleston in ottavi o se volete anche potete mantenerlo in quarti sull'uno cassa sul battere e sul quarto sedicesimo sul due abbiamo sul primo ottavo rullante e sul secondo la cassa sul tre abbiamo primo ottavo una pausa e sul secondo ottavo un colpo di gran cassa sul quattro abbiamo rullante sul primo ottavo ottavo puntato di rullante e cassa sull'ultimo sedicesimo questo secondo me è il groove base lo guardiamo a 100 bpm appunto come vi dicevo nel brano troveremo diverse varianti logicamente non sto a farvele vedere tutte vi farò vedere appunto tutta la prima parte dell'introduzione che appunto già ne vede tre diversi dopodiché nel corso del brano ne vedremo alcuni guardiamo anche il primo feel dell'introduzione e il feel che ci porterà alla prima strofa mi sono dimenticato una cosa importante nell'introduzione abbiamo diverse misure in cui viene solo suonato un colpo di timpano sul quattro dallo spartito che avete linkato qua sotto trovate tutto quindi tranquilli c'è indicato proprio tutto feel che ci porta alla nostra introduzione con la batteria che vede due quarti di pausa sul tre abbiamo un colpo di tom sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo abbiamo due trentaduesimi suonati sempre sul primo tom io li ho indicati come trentaduesimi logicamente può anche essere indicato con un drag quindi un drag che poi anticiperebbe il primo colpo che troviamo sul quattro appunto sul quattro abbiamo due sedicesimi di rullante e sul secondo ottavo un colpo di timpano feel che ci porta alla nostra strofa vede appunto nei primi due quarti un groove charles in ottavi sull'uno primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sempre di cassa sul due abbiamo la stessa figura ma il primo colpo viene suonato sul rullante quindi rullante con un colpo di un ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa sul tre inizia il nostro feel sul primo ottavo rullante e charleston sul secondo ottavo un colpo di tom due sedicesimi di rullante e il secondo ottavo sul timpano vediamo tutta questa parte brano appunto che viene suonato a 115 bpm noi lo vedremo a 100 ok dopo questa parte partiamo con la strofa primo giro che vede due differenze sui due finali primo finale i nostri primi due quarti sono il groove base sul 3 sul 4 sempre charleston in ottavi ma sul 3 abbiamo sul secondo sedicesimo rullante e sul secondo ottavo quindi terzo sedicesimo un colpo di cassa sul 4 abbiamo rullante sul primo sedicesimo e cassa sul secondo sedicesimo secondo finale che vede sempre i primi due quarti con il nostro groove base sul 3 abbiamo sull'ultimo sedicesimo un colpo di cassa mentre sul 4 abbiamo diviso in ottavi primo ottavo rullante e crash secondo ottavo cassa e crash prima di arrivare alla seconda strofa rivediamo il feel che abbiamo suonato in precedenza suonato in precedenza anche qui sulla seconda strofa troviamo due finali diversi vediamoli il primo primo il secondo quarto che vede sempre il nostro groove base sul 3 abbiamo un ottavo di pausa e gli ultimi due sedicesimi di cassa sul 4 troviamo un quarto di rullante e crash 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 secondo finale che vede appunto sui primi due quarti sempre groove sul 3 iniziamo con primo ottavo puntato in questo caso di rullante e charleston insieme sull'ultimo sedicesimo un altro colpo di rullante sul 4 troviamo due sedicesimi di rullante secondo ottavo cassa e crash 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 passiamo al feel che anticipa il nostro ritornello sull'uno vediamo cassa con un colpo di un ottavo puntato e ancora sull'ultimo sedicesimo sempre un colpo di cassa troviamo anche un colpo di crash sul primo colpo di cassa sul 2 due ottavi divisi tra rullante e charleston sul primo primo tom sul secondo sul 3 abbiamo un sedicesimo di pausa poi sul secondo sedicesimo troviamo un colpo sempre sul primo tom successivamente sul secondo ottavo colpo di rullante sul 4 troviamo primo sedicesimo sul rullante secondo sul secondo tom e sul secondo ottavo un colpo di timpano ok arriviamo al nostro ritornello anche qui troviamo due giri di 8 misure l'una noi vediamo l'ultima misura di ogni giro perché è quella che si differenzia insomma da tutto il resto ci sono appunto due piccoli feel che sono interessanti da vedere allora appunto sull'ultima misura del primo finale vediamo sui primi due quarti il nostro groove base sul 3 troviamo una pausa di sedicesimo dopodiché abbiamo tre sedicesimi consecutivi che vedono rullante e due colpi di cassa sul 4 troviamo rullante e crash insieme ultima misura del secondo giro del ritornello sul 1 appunto cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo sul 2 troviamo due ottavi sul rullante sul 3 pausa sul primo sedicesimo e un colpo di tom sul secondo sul 4 abbiamo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano ultima misura prima di rientrare nella strofa che vede appunto un altro feel sull'1 e sul 2 nostro groove sul 3 abbiamo sul primo ottavo rullante e charleston ultimo sedicesimo che vede un colpo sul primo tom sul 4 di nuovo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano 1,2,3,4 1,2,3,4 prima di arrivare al secondo ritornello abbiamo quattro misure che vedono all'interno due feel quindi vediamo tutta la parte prima misura che vede il nostro groove di base mentre sulla seconda, sull'1 ancora una parte di groove quindi cassa sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo sul 2 vediamo rullante e charleston sul primo ottavo dal secondo ottavo vediamo due sedicesimi che partono sul primo tom sul 3 sempre diviso di sedicesimi i primi due li troviamo sul rullante terzo sul secondo tom quarto sulla cassa e sul quattro rullante crash terza misura che vede ancora il nostro groove di base sulla quarta misura primi due quarti con il groove sul 3 abbiamo primo ottavo di rullante e charleston e gli ultimi due sedicesimi sul primo tom sul quattro abbiamo due sedicesimi sul secondo tom e il secondo ottavo sul timpano vediamo tutte e quattro le misure passiamo al nostro ritornello che anche qui troverà un fill su entrambi i finali appunto dei giri ultima misura del primo finale appunto groove di base che vede una piccola differenza sul 2 in cui troviamo sul secondo ottavo due sedicesimi suonati con la cassa sul 3 troviamo un ottavo di rullante e due sedicesimi sul primo tom sul quattro troviamo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul secondo tom o sul timpano secondo finale ultima misura altro fill sull'uno vediamo appunto cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo sul due troviamo due ottavi di rullante secondo finale che vede sull'ultima misura il fill che abbiamo visto appunto nel ritornello precedente quindi stesso fill di prima arriviamo al nostro special in cui principalmente viene suonato tutto sul charleston in sedicesimi mettendo gli accenti sul primo e l'ultimo sedicesimo sulla prima misura troviamo appunto sull'uno anche un colpo di gran cassa quindi insieme al crash sette misure che lavoreranno tutto sul nostro charleston dopo altre cinque misure in cui con lo stesso disegno ritmico sul charleston troviamo sul 2 cassa e crash dopodiché un'altra misura in cui troviamo un fill sugli ultimi due quarti fill che vede sul 3 il primo ottavo solo sul charleston secondo suonato sulla cassa sul 4 abbiamo due sedicesimi di rullante e un ottavo sul timpano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 poi troviamo sempre un fill che abbiamo trovato all'inizio prima di passare all'ultima parte che poi si sposta sul ride vediamo un ultimo fill qui troviamo sull'uno primo ottavo puntato di rullante e charleston aperto ultimo sedicesimo sempre rullante e charleston aperto e poi sul 2 abbiamo la stessa cosa sul secondo ottavo sul 3 troviamo primo ottavo sul primo tom ultimi due sedicesimi sul rullante sul 4 due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano vi suono questa misura suonando anche quella appena prima di modo che capite bene gli appoggi sul tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 ultima parte quindi finale siamo arrivati al finale della canzone si sposta il nostro ostinato sul ride mantenendo dei colpi sui quarti i nostri groove non cambiano ma vediamo le ultime misure quindi il fill finale penultima misura che vede appunto sull'1 due ottavi di gran cassa con sul secondo sedicesimo anche un colpo di rullante sul 2 secondo sedicesimo di rullante e sul secondo ottavo un colpo di cassa sul 3 troviamo il fill iniziale quindi 3 e 4 che vede appunto il fill che abbiamo visto all'inizio ultima misura che vede appoggi di cassa e crash sull'1 sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo sul 2 sul secondo sedicesimo 1, 2, 3, 4 ok per questo tutorial abbiamo visto appunto i fill principali il groove appunto anche qui essendoci tante varianti non le stiamo a vedere tutti magari guardatele voi se poi avete delle domande non fate altro che scrivere nei commenti qua sotto e cercherò appunto di darvi delucidazioni maggiori se vi è piaciuto mettete un bel like che fa sempre piacere e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche vi aspetto ci vediamo alla prossima buon divertimento e buon groove ciao